Nuove direttive europee per le case green. L'Europa infatti potrebbe a breve chiedere di aumentare la classe energetica delle abitazioni. Noi ne abbiamo parlato con un esperto che da anni vive in una casa a zero energia grazie a fotovoltaico e geoteremia. È una direttiva che chiede di arrivare al 2030 con le case che siano a meno in classe E. Questa è la serie delle classi energetiche delle abitazioni. La classe E è in fondo la classifica, non è che gli chiedono di vincere il campionato mondiale dell'efficienza energetica. E poi la direttiva dice che entro il 2033 vogliamo che le stesse abitazioni arrivino almeno in classe D. Rimaniamo sempre nella parte bassa della classifica. Quindi la richiesta non è una richiesta ideologica, è una richiesta minima che consentirà di essere in linea con l'obiettivo di risparmiare energia che l'Unione Europea si è data. Ecco qui ci troviamo in una casa a energia zero, possiamo definirla così, con fotovoltaico e geotermia. Si può fare quindi? Beh certo, qui noi siamo nell'alto della classifica, ci siamo da 17 anni. Si può traendo con una serie di strategie, diciamo prendendo un po' di calore dalla terra o di temperatura perché poi d'estate è il fresco, ovviamente si può trarre energia dal sole con il fotovoltaico e utilizzando uno strumento che si chiama pompa di calore. L'era ormai, quello che sta avvenendo è l'evoluzione del riscaldamento, dal riscaldamento a caldaia con le pompe di calore. Parla di sostenibilità ambientale ma lei ha avuto anche un notevole risparmio poi? Ovviamente è il salvabollette lo chiamo e io vi consiglio di non rimanere a metà, decidervi, meglio come si dice, patire una volta sola, però da quel momento in poi tenete conto che una bolletta con una casa di questo genere è un sesto della bolletta totale, anche perché io ne pago una bolletta, non due.